allora passiamo all'aspetto più tipicamente se possiamo parlare di un aspetto tipico della tecnica con chi ha questo tipo di problema perché abbiamo visto dal punto di vista del delirante sovvertiamo il delirio, cavalchiamo il delirio per sovvertirlo e poi concentrarci su quello che viene fuori ma con la persona che si difende o che attacca gli altri perché convinta di essere sotto una costante minaccia di questi altri con la maiuscola dopo aver stabilito questa relazione trasparente tecnicamente come procediamo allora la cosa è bella perché una volta che si è costruita la relazione con il paranoico lui che soffre di relazione è una sentenza così come la descrive Gregory Batson e quindi è una relazione indispensabile noi diventiamo alleati del paranoico cambia la qualità totalmente probabilmente siamo gli unici alleati della sua vita quindi la prescrizione elettiva che va inserita ovviamente nel quadro dell'intervento della specifica persona perché la soggettività della persona non deve essere deve essere sempre rispettata perché è il punto di leva essenziale la classe di intervento è una prescrizione che è stata studiata al centro di terapia strategica è una prescrizione paradossale perché? perché il paranoico costruisce il suo problema andando alla ricerca delle prove a conferma che gli altri stanno facendo qualcosa di malevolo nei suoi confronti e la prescrizione è esattamente questa mica valca sia il delirio che la struttura del problema quindi ti chiedo di fare meglio a questa cosa quindi tutti i giorni quando vai in quel luogo il capo ufficio, la sorella, l'amica, chiunque sia fai uno studio dettagliato e ricerca le prove evidenti che quello che stanno cerca di individuare da guardando gli altri cerca di capire che cosa stanno facendo di malevolo contro di te e da cosa lo capisci negli anni? dal loro sguardo, da quello che fanno, da come ti parlano e allora questa è una manovra che è di intervento e anche molto incisiva perché la maggior parte di questi pazienti sto parlando di una percentuale molto elevata che adesso non mi ricordo perché ce l'ho nel libro quindi non lo dico torna e dice ma no, non ho trovato tutti questi indicatori e quindi lì si continua a mantenere questa cosa mantenendo però una relazione di alleanza ma siamo sicuri che non hai trovato niente? riprovaci come diceva Sant'Agostino si convince prima è meglio chi lo fa da solo e quindi questo riconsegnare di nuovo la stessa prescrizione permette alla persona di convincersi da solo perché più cerca meno trova è chiaro che da solo modifica la percezione certo è che ci sono anche delle persone che tornano e tornano con tutti i dettagli ma dicono sì, allora l'ho trovato, eccolo, questa è la prova e questo che cosa ci dice? ci dice che siamo nel delirio e quindi di nuovo dobbiamo ritrovare una modalità giusta di intervento specifico per i contenuti del suo delirio e intervenire di nuovo a quell'idello fantastico che bello mi piace proprio questa intervista Manuela perché stai dando una serie di dettagli e di spiegazioni che peraltro fanno vedere la struttura che c'è sopra e l'aspetto di come si coniuga insieme di nuovo relazione, comunicazione, tecnica non possiamo prescindere ad essere alleati in maniera netta e pulita della persona perché altrimenti la tecnica da sola non sarebbe sufficiente ok, ti chiederai ancora tante cose però voglio sempre tenermi intorno ai 30 minuti nel libro parlate, ti chiedo ancora un po' di cose nel libro parlate anche della paranoia di sé cos'è che intendete in particolare? è una definizione nostra è una definizione che è acquisita da gente in terapia strategica perché sta a futuro di collaborazione anche numericamente la paranoia di sé è il nemico il nemico non sono più gli altri ma sono io stesso quindi io ho avuto la prova di non poter contare su di me è una situazione drammatica è una situazione apparentemente depressiva a volte sta nella classe delle depressioni maggiori è una depressione a tutti gli effetti però con la qualità paranoica perché la persona deve difendersi da sé stessa e non ci riesce ed è una classe di problema molto pericolosa perché lì davvero abbiamo trovato degli elevati rischi di suicidi e anche in quel caso mandate la persona a cercare conferme che non troverà della propria incapacità mettiamo così allora lì è troppo presto non è una manovra elettiva da fare subito in prima istanza perché non la sanno fare loro si portano dietro una certezza di essere meno degli altri e l'essere meno degli altri porta dietro come dire delle emozioni sia primarie che non solo la paura ma il terrore di essere scoperti per quello che non si è perché paradossalmente sono delle persone molto intelligenti incapaci e non limitate continuano a lavorare nonostante questa grande tarlo mentale quindi hanno una paura che diventa terrore ogni qualvolta che entrano in relazione per esempio in ambito lavorativo se succede un piccolo incidente che per loro è la dimostrazione evidente che non sanno fare una cosa ecco che immediatamente esce fuori gli altri e gli altri si sono accorti delle mie incapacità e qui loro si nutrono davvero di un'emozione pazzesca che è la vergogna la vergogna è un'emozione secondaria che non ha possibilità di essere spiata come la colpa invece che fa sentire impotenti e che può portare ad aprire la finestra del settimo piano di una casa e volare via quindi come ci lavorate? è tolto ovviamente che il maggior prima cosa sia assicurarsi che il rischio suicidio sia... allora talvolta c'è bisogno di lavorare con il sistema famiglia e renderli consapevoli del rischio che si corre e decidere a volte anche l'opportunità di interventi psichiatrici non è escluso questo però lì l'intervento principale come punto di partenza è farli lavorare sulle emozioni che provano attraverso la scrittura loro sono dei grandissimi arrabbiati con se stessi e sono dei grandissimi invidiosi degli altri per cui c'è un'idealizzazione dell'altro ma nell'invidia quindi io vorrei essere come voi e non sono e di conseguenza il nocciolo è la rabbia verso se stessi sono persone che hanno anche delle sofferenze fisiche che dà rabbia in... perché trattengono tutto danno l'impressione di essere... cercano di essere il più possibile come dire accettati magari gli altri li accettano anche ma loro no e quindi dobbiamo lavorare sulla rabbia fino all'esaurimento fantastico quindi è la rabbia che porta... la diminuzione della carica emozionale che porta nella rabbia poi diventa il punto di accesso per contenuti diversi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti